ben ritrovate a tutte allora oggi realizzeremo insieme questo cordoncino particolare da usare sempre per creare gioielli tipo di bracciali collane da usare su entrambi i lati perché questo è un lato messo con la testa in giù abbiamo un altro lato molto carino si può usare questo cordoncino come inizio lavoro per borse se dobbiamo lavorare in tondo si può lavorare sia un lato da questa parte poi si volta e si lavora su questo lato e sia poi la parte sottostante che questa bellissima trecciolina oppure per iniziare un qualsiasi lavoro lavorando poi su queste asolini che saranno i punti da contare per iniziare un lavoro ok allora lo facciamo insieme è molto veloce e molto facile io vi invito ad iscrivervi al mio canale lasciare un bel mi piace se vi fa piacere e commentare questo lavoro facciamo il cappietto di inizio lavoro io vado a girare il filato come ho fatto ora prendo il filo di inizio lavoro sull'uncinetto e vado a fare la prima maglia semplicemente in questo modo vado a tirare e ho fatto così la prima maglia da adesso in poi il procedimento sarà sempre uguale si punta si mantiene con il dito l'asola sull'uncinetto si punta sull'asola avanti a noi e si tira semplicemente il filato in questo modo nuovamente si punta nella prima sola e si tira il filato come se andiamo a lavorare delle maglie bassissime prendendo solo la prima solina di fronte a noi è un lavoro molto facile molto veloce ripetono potete usare per creare gioielli orecchini borsa come inizio lavoro logicamente dei manici per borse molto delicati e molto particolari insomma vedete voi quello che potrete creare con questo bellissimo inizio di cordoncino questo è il risultato finale davanti e questo è il risultato finale del dietro come al solito una volta poi terminata la lunghezza desiderata si passa il filo nel cappietto si tira e si fissa il filo finale nel retro del lavoro mie care questo è stato un piccolo progetto veloce spero vi sia piaciuto e ci rivediamo prestissimo ciao